Ok, 3, 2, 1, azione! Sono nella farmacia Scarpinati, nella bellissima cittadina di Castelvetrano, nota tra l'altro come la città dei tempi, la città degli olivi, stupenda, veramente. Sono in compagnia di Luana, ciao Luana, ben trovata. Allora, parliamo di benessere, parliamo di integrazione e parliamo anche di come arrivare in forma all'estate, visto che insomma la prova costume sarà veramente molto, è alle porte e dura per tutti. Allora, prima di questo però vorrei fare un po' un cappello in generale, proprio sull'integrazione. La linea di questo integratore si chiama Officina dell'Alchimista e nasce proprio qui all'interno di questa farmacia dall'esperienza, un'esperienza davvero ricca, portata avanti dal dottore Scarpinati, che ha avuto l'idea di creare proprio questi integratori. Sì, creati proprio ad hoc per le persone. Si è reso conto quindi che rispondeva ad un'esigenza, l'esigenza... Sono creati proprio per andare a migliorare quelle problematiche che accomunano un po' tutti. Certo, quindi nasce quello che vuole dire dall'esperienza di una clientela affezionata, che ancora di più quindi si sente legata proprio al farmacista, che lo sente non solo come un consulente, ma anche come un confidente, al quale rilevare, rivelare certe problematiche, e soprattutto una figura di fiducia. Esatto. Allora, quindi integratori, abbiamo detto, naturali, senza glutine e senza lattosio. Made in Italy. Soltoriamo anche questo, fondamentale, che è molto importante. Integratori naturali, Made in Italy al 100%, senza lattosio e senza glutine. E adesso che arriva l'estate? Io che voglio arrivare in forma come tu, tutti! Esatto. Attenzione, non soltanto le donne, ma anche gli uomini poi. Sì. Betulla, ananas, ortosifon, tarassaco, tutte delle piante che favoriscono appunto il drenaggio dei liquidi. Ok. La camomilla migliora la modalità gastrointestinale, favorisce anche l'eliminazione dei gas. Poi abbiamo anche il finocchio, che è contro il gonfiore intestinale. E comunque poi la particolarità è appunto il drenaggio dei liquidi. Ok, 19,90 euro. Ci sono degli errori che hai detto, mentre nei cavi vediamo. Si vuol dire che l'ananas, cosa ho detto? L'ananas, ti rivolgo di discorso dell'ananas. Eh, non l'ho detto ancora l'ananas. Non l'hai detto, l'hai menzionata nella prima parte. Eh, ma non l'ho detto di nuovo associando l'ananas correttamente. Sì, ma non l'ho detto l'ananas ancora. Non l'ho detto. Vabbè, rifacciamo prima, lo dobbiamo dire l'ananas, quindi come è. Che è contro il micro, contrasta gli estetismi cellulite, però ancora non l'ho... Ah, vabbè, adesso... No, quello no, hai nominato l'ananas. L'ho nominata e l'ananas, ma l'ha spiegata. Però non siamo entrati in una... Non l'ho spiegata, l'ho nominata, ma non l'ho spiegata, quindi la posso ridire. Sì, vabbè, possiamo. Allora, quindi riprendiamo. Sì, ritorniamo, esatto. Quindi se vuoi, io ti posso richiedere a che cosa serve e cosa c'è dentro. Ok. Se tu vuoi, quando dici gli ingredienti, puoi dire il finocchio serve per quello. Ok. Allora, a che cosa serve? Vai. Drenoren, a che cosa serve e cosa c'è dentro? Favorisce il drenaggio dei liquidi ed è costituito da betulla, ortoesifon, camomilla, ananas. L'ananas, per esempio, cosa fa? Quest'ananas che tutte le donne hanno mangiato proprio a rotta di collo quando erano più giovani che per prima. Serve per contrastare gli estetismi della cellulità. Ah, fantastico. Mezzo, le altre piante come l'ortosifono, la betulla, hanno proprio le permietà di drenare come drenaggio dei liquidi. C'è anche il finocchio? Sì, è il finocchio contro il gonfiore intestinale. Ah, fantastico. E la camomilla invece facilita la mortalità intestinale e l'eliminazione dei gas. Senti, come lo prendo? Questo va preso assumendo 20 ml. Questo è il che corrisponde a questo misurino e un litro e mezzo d'acqua. E questo può essere o un misurino e anche due misurini. Ah, quindi un misurino o due in un litro e mezzo d'acqua. A seconda delle esigenze. Sì, è tanto a disposizione. A fare il plin-plin perché appunto stimola proprio questo. 19,90 euro il prezzo. E quanto dura più o meno? Al secondo se è uno o due misurini da 15-20 giorni. Ah, tra i 15 e i 20 giorni sono 500 ml. Sì. Perfetto. Allora, questo è un tipo di prodotto molto gettonato adesso che arriva l'estate. Sì, questo è il periodo proprio più conclamato perché proprio tutti ci prepariamo per l'estate e quindi cerchiamo di metterci in forma perdendo qualche... No, perdendo qualche chilo. No, quello no. Aiutandoci. Aspetta, ora si è detto così. Riprenditi. Aspetta il secondo.